Ciao a tutti ragazzi, video svolta, svolta totale, finalmente ho detto addio a tutti i telecomandi avevo un problema enorme di telecomandi, 106 telecomandi, adesso vi faccio pure vedere quanti telecomandi ho e ho provato tutte le soluzioni nel corso degli anni, ho provato da costosissimi telecomandi tipo il Logitech Harmony ha telecomandi personalizzabili, varie soluzioni, non ho mai trovato una soluzione che facesse al caso mio finalmente 12 euro, 13 euro, una cosa del genere su Banggood, questo cazzillo qua fa esattamente quello che deve fare e lo fa benissimo, il dispositivo in questione è un Broadlink RM Mini 3, Black Bean domotica wifi smart telecomando smart universale IR, questa è la descrizione completa su Banggood, comunque la descrizione la metto nella descrizione del video il link lo metto nella descrizione del video, scusate sono emozionatissimo, in realtà l'ho comprato un paio di mesi fa però l'ho voluto provare, l'ho voluto provare tanto per essere sicuro che facesse esattamente quello che deve fare e è semplicissimo, fondamentalmente questo si connette wifi alla rete di casa quindi si avvia l'applicazione, questa è iControl, questa è già la mia configurazione potete aggiungere dei nuovi telecomandi, potete aggiungere dei telecomandi con degli schemi che già esistono per esempio schemi per la televisione, questo è uno schema già fatto dove dovete solo impostare dovete solo mappare le funzioni del telecomando che già avete per esempio premete volume più, lui aspetta che usate il tasto volume più del vostro telecomando e lo memorizza, la stessa cosa per tutti gli altri tasti insomma oppure create dei telecomandi personalizzati come quello che ho fatto io che ha i tasti per alzare e abbassare lo schermo del videoproiettore, per accendere il proiettore uno per mettere la Apple TV, uno per mettere il Mi Box e l'altro setto box che ho i tasti in basso li ho configurati per cambiare l'input dell'amplificatore e i tasti del volume e la cosa più bella è che potete fare delle sequenze per esempio se io spingo film, lui abbassa lo schermo del proiettore imposta l'ingresso video sulla Apple TV aspettando chiaramente qualche secondo aspetta, mette l'audio sull'Apple TV e accende il proiettore fine, fine, con un tasto solo io sono pronto a vedere i video oppure la sequenza buonanotte che tira sullo schermo del proiettore spegne il proiettore e siccome il mio proiettore bisogna spingere due volte il tasto off per spegnerlo lui automaticamente, insomma la sequenza l'ho impostata io mi segue tutta la sequenza di comandi è veramente facile da usare è divertentissimo, funziona benissimo impostare le sequenze è facilissimo basta fare una nuova scena nel mio caso primo comando, abbasso il proiettore e quindi lo chiamo schermo giù per esempio poi poi aggiungo il mio media center preferito dopodiché gli dico pure di impostare l'audio sul media center preferito e basta se voglio introdurre delle pause aumento le pause tra un comando e l'altro facilissimo cioè non c'è niente di più facile veramente è una piccola svolta che volevo condividere con tutti perché sono felicissimo veramente i 13 euro spesi meglio della mia vita è una piccola svolta è una piccola svolta